Ciao, sono Barbara Ebert e in Hello Bank mi occupo di marketing per la promozione e lo sviluppo dei prodotti di daily banking, cioè principalmente conti correnti e carte di credito. Prima di arrivare in BNL ho lavorato presso l'ambasciata dell'Afghanistan e in una società che faceva siti internet per federazioni sportive. In BNL sono stata diversi anni al servizio studi dove mi occupavo di analisi macroeconomiche e facevo praticamente il topo di biblioteca. Recentemente sono passata ai conti correnti dove mi sono occupata di offerte per la clientela small business, per farmacisti e liberi professionisti ed ora siamo a Hello Bank. Lavorare per Hello Bank rappresenta una sfida perché ci dobbiamo rivolgere a un pubblico completamente diverso, un pubblico giovane, veloce, smart, che vuole avere offerte facilmente raggiungibili, facili da capire, altrimenti in un click sono già andati via. Per questo dobbiamo essere sempre ricettivi, aperti alle novità, sempre pronti a cogliere nuove opportunità e avere una buona dose di curiosità in tutto quello che proponiamo. Penso di poter contribuire al team di Hello Bank con la mia flessibilità e trasversalità, cioè la mia capacità di poter lavorare su progetti totalmente diversi, con canali totalmente diversi e interagendo con team di altre strutture. Hello Bank è una banca semplice e immediata, è la banca del futuro perché è la banca per le persone che sono sempre connesse, è la banca che ti segue sempre, che conosce le tue necessità e che evolve con te, la banca in un click. Io vi saluto e continuate a seguirci e veniteci a trovare sul sito hellobank.it